Grazie a Teresa Guarnuccio per questo servizio e come avete visto c'erano tantissime parti che hanno voluto anche testimoniare, poi c'erano anche molti ucraini perché come ci sono tanti italiani che sono andati in Ucraina, avete visto molti ristoratori, io ricordo qualche anno fa c'era stato anche proprio un momento di imprenditoria, scambi economici fra gli imprenditori siciliani e quelli di Kiev e quindi ci sono davvero molti imprenditori a Kiev e in altre città dell'Ucraina, ma ci sono anche moltissime persone ucraine, soprattutto donne che vivono a Ragusa, sono persone che lavorano, persone che hanno sposato ragusani, quindi l'Ucraina è vicina e avete visto quello che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un'intervista con una signora sposata a Ragusa che ha in verità spiegato quale sono le ragioni del risentimento degli ucraini che vogliono guardare al loro paese come un paese molto più europeo che sovietico, dove c'è una voglia di libertà maggiore, per esempio dobbiamo dire che in Russia ci sono state delle persone che hanno manifestato contro la guerra e le hanno fatte tacere, perché non credo che i russi siano contenti, come era in America quando sono andati loro a combattere in Vietnam, c'erano gli americani che protestavano contro la guerra, lì magari non li arrestavano ma qui li arrestano e ciò sta a dimostrare che non c'è questo grande consenso, tra l'altro dobbiamo anche dire che morire in guerra non è assolutamente una cosa a cui aspirano le persone, tantomeno i genitori, i padri, i figli vogliono vedere i loro parenti morire in una guerra. Quindi un po' da tutte le parti ci sono state questa iniziativa, avete visto il sindaco di Pozzallo e a Vittoria, a Modica è stato innalzato sul municipio alla bandiera Ucraina, ma a Vittoria oggi c'è stata una iniziativa che vedete, in pratica un momento di preghiera per l'Ucraina, quindi in piazza del popolo a Vittoria ci sono state, c'è stato il sindaco, persone della protezione civile, dipendenti del comune, ma anche tanta gente che si sono riuniti in piazza e hanno effettuato questa preghiera per la pace in Europa e la pace in Ucraina. Ma già il comune di Vittoria si era impegnato, ricordate l'intervista di lunedì, quando hanno fatto partire, così almeno ha detto il sindaco, dei mezzi per portare prodotti in Polonia al confine con l'Ucraina e questa è comunque una cosa che può essere fatta e suggerirei proprio questo, perché l'emergenza, anche se domani smettessero di fare la guerra, non finirebbe, l'emergenza con milioni di profughi c'è ancora, quindi se è vero che bisogna dare una mano, mi pare più che giusto, conviene davvero organizzare, quindi i comuni potrebbero mettere insieme dei movimenti per poter mandare merce, abbigliamento, servono le coperte, servono tante cose per questi profughi, non sono migranti, sono profughi che scappano dalla guerra. Uno dei motivi principali per cui c'è questa questione è quella dell'appartenenza o meno dell'Ucraina alla Nato. Tutti abbiamo sentito parlare della Nato, non c'è dubbio, ma capire esattamente che cosa è, che poi non è l'Europa o l'America, la Nato è un'organizzazione che riunisce tantissimi paesi e quindi ho chiesto al nostro Peppelizio di dedicare una puntata della sua trasmissione proprio a spiegare che cos'è la Nato. Vediamo.